Questo allora per tutti i passaggi a seguire, è l'ultimo e poi poi il finale che si rende sempre due ultimi per la prima e seconda Per tutta la prova siamo ai 10 in alternia come detto sullo schieno della campana il prossimo programma sarà meno novi dalla conclusione dovremo già continuare, attenzione a me attenzione a Trenzi, traguardo dei primo no, punti in paio per tutti voi guadagnano due punti, la concorrente 5,92, Mui-Jara Guadagnano due punti, la concorrente 2,85, Mui-Jara primi punti nel suo segno sull'altra guardia del Mielmo, l'opera termina anche la Funtiva si ripete la situazione, il passaggio precedente di una sorta in Mielmo per tanto due punti, la concorrente numero 2,85, Mui-Jara il passaggio precedente di una domanda, traguardo di una torre se non sono la 21,86, Mio-Jara Guadagnano due punti, la concorrente 5,98, Mio-Jara attenzione a Treppe e danno 2 punti la percorrente di 102 Susanna Rottetti sui primi due in questa gara uno lo donna la percorrente 280 cento però sta a Martina i miei ragionatori aspettivi sono stata quarta siamo a Cinci e Datterri e trapporti valida attenzione a Treppe l'interiore brava per guadagnare i punti ha guadagnato ancora 2 punti la percorrente di 185 Teresa Martina nell'evolvato si porta a quota 6 uno lo ha guadagnato con corrente di 172 più ospile non arriva 1 si porta a quota 2 siamo a fortuna città la confusione guadagnare a 2 punti la percorrente di 367 sul ruolo provoca il massimo di 172 in questa gara uno guadagnare a 302 numero 202 il secondo Rottetti di 222 si porta a quota 3 punti e si porta a quota 3 punti e si porta a quota 3 punti e si porta a quota 3 punti mancheranno 3 giudizzi il prossimo preguardo un po' di validi che controllo risulta il lungo è il risultato con corrente di 152 tutti gli pochi sono 8 paesi pazienti in questo güadagnare aUS attraverso il luogo garante Sky mi ha chiesto un'azionale classifica di ciascuno approfondare ha guadagnato il quattro di tutti la concorrente 476 Ennio trovò, aveva 4, si porta ancora 6 e l'impunto è avvenuto la concorrente 200, 202 Susanna Rettetti, ne aveva in presi porto a quattro di tutti conquistati siamo in prossimità dell'ultimo giro e abbiamo con 6 punti che avrete il numero 8 e l'altro contatto ultimo giro con un altro dei punti che vengono conquistati da Ennio trovò, con la concorrente, si porta 8 punti conquistati e guadagnano il quattro di tutti, la concorrente 8 e l'altro è avvenuto si porta 8 punti contatto il prossimo giro, 8 punti e l'altro voto 9 punti e l'altra mattina tagload con un gruppo di tutti sul gruppo di tutti reggiatra no a tutti gli altri punti e nell'interno e anche lavorative e così principi votati molto in frequenza sempre in termini votati e politici Lettione buoni Piratesi ma cos'è che hai bisogno? dammelo, dammelo che te lo sblocco in questa prova è quello il fortino di legge Rima Minchi, otto finaliste momentaneamente l'ultimo di campo per la finale di questa gara guadagno da due punti, la concorre 95 e 82 Florian Zinni che è il centro in più a Senghi è una delle prime pagine, primo e secondo hai visto? hai trovato, è quella della Cugo stiamo avvicinando l'Undi Palpatia, 3 guardi, 07 e che a termine ha avuto un certo trattore dei punti sul 3 guardi, 07 si ripete, non hanno la situazione del passaggio precedente quindi due punti, la concorrente numero 33 Migri Sara, che si porta a 4 lo chiede il punto per la concorrente 204 Migri Asia, se ne viva 1, se ne viva 2 siamo in attenzione, la concorrente numero 3 e la conclusione, ancora una volta per l'impaio attenzione a tre guadagna 2 punti, la concorrente 164 Giulia Picarone, le va 1, sono ancora con me adesso il problema, la concorrente 204 Migri Asia, non è 2, si porta a cuore 4 ma i punti conquistati fino a questo momento siamo in attenzione, ancora un giro terza l'impaio attenzione a tre guadagna 2 punti, la concorrente 236 e in omorosa l'impaio attenzione, ancora un giro terza venga, adesso, va bene l'impaio attenzione, la concorrente 204 Migri Asia, l'impaio si porta a cuota 4 anche tra 5, 5, 6, 6, 6, 6 l'impaio di Sanma, l'impaio 4 2 punti, 3 punti per Chiamocchia e 2 punti per Pirola, il cuore Pirola i tempi che si passano con il passaggio precedente per tanto di tutto, la concorrente 236 soffie di Pirola, che aveva 2 supporti 4, 1 punti per la concorrente 245 Migri Asia, l'impaio di Sanma la concorrente 245 in seconda posizione con 4 punti di Pirola, Succio siamo in possibilità di creare termine la dame di Fulti, la tengo a 252 Pirola e Lucevica, l'impaio di 2 si porta a 4 punti e il 2 punti per la concorrente 245 Migri Asia e a 252 un'altra parte con contropunti negli asia e sono migri, Sara e Pirola su a B 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 e non è un'altra parte con contropunti la concorrente a 564 di Garagioio negli 345 il punto lo conquista la concorrente la concorrente a 335 di Sara negli 445 e poi il punto lo conquista la concorrente a 335 la concorrente a 335 di Sara e sono in scuola e non è la passiva per tutti i punti un punto la governata con corrente a 235 che aveva 5 punti a 225 sale in gioco a 690 con il 364 attenzione alla derata finale perché sono di fondamentale l'importanza anche a punti conclusivi che guardano Rattotti proprio su questo traguardo l'ultimo che va a segnare 3 punti alla prima 2 alla seconda e alla terza a prezzo la finale a punti sui 3000 metri di pari a 10 giri di pari a 10 giri completi per la categoria a lievi femminile il giro il giro di pari a 10 giri il primo passaggio è stato sicurato l'ho previsto lo stilo della campana prossimo preguardo meno attenzione avete punti in bagno per voi punti in bagno punti validi per voi traguardo meno 8 guarda i miei punti la campana numero 10 anche che vale il successo per lei il punto per la campana 155 2 l'angelica di loro avete 2 3 3 questo è quello che si è chiesto se il traguardo non è una passaggio e la domina attenzione 3 punti in bagno guarda i miei punti la spesa 3 punti in bagno 85 però 6 4 4 4 6 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 7 6 7 7 ha guadagnato di fronte la concorrente nel 204 negli Asi, l'anima 1, supporta il posto di e l'anima 1, solamente nel 164 la dica non giudia, è il suo primo punto in questa scala siamo a metà distanza, il concorso previsto 5 cibi al perno, ancora appunto in palio attenzione a trete guadagnati a due punti la concorrente nel 164 vittorio a giugno nel 1, supporta il posto di la concorrente nel 204, negli Asi, l'anima 1, supporta il posto di questo è un passaggio di 5 cibi al perno quanto sono i figli si possono travarlo per la conduzione di questa prova, di questa finale con il punto di scegliere a fare il posto di l'anima 1,4-1, scegliere, si può travarlo con il Scegliere, si può travarlo con il che è l'anima 1,9-8-1, si può travarlo con il futuro, con il positivo, la fase di oggi con il125, la squadra con il secondo, la squadra con il primo un'esercizio ha guadagnato di tutti la concorrente con potremmo in risale e ha guadagnato di uno contro il gioco il gioco è il gioco il gioco è il gioco è il gioco ultimo gioco ha guadagnato di tutti la concorrente con potremmo in risale il gioco è il gioco 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 con potremmo in risale per le prime confezioni avrà avuto a conto di FIBA a sottoguardo per accogliere gli ultimi gruppi utili perché va bene, abbiamo tre posizioni praticamente quasi a fare tutti quindi è vero, è vero, è vero importante